Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sto facendo questo video per dirvi due cose molto importanti. Il primo è che oggi non uscirà la Pixemo, non uscirà nessun video di Minecraft, perché appunto, come scoprirete nel prossimo video, sono successe un po' di cose e quindi diciamo che è stato semplicemente rimandato l'episodio e oggi non esce. Seconda cosa molto importante, per cui appunto sto facendo questo video per avvisarvi, è che il 6 e il 7 maggio appunto sarò presente al Festival del Nerd a Foggia. E tutti i due giorni, quindi se non sapete questo da fare il preciso, se non sbaglio, in descrizione ci dovrebbe essere un link con tutte le informazioni e trovate anche il link della prevendita di una cosa che faremo il 6. Praticamente faremo una specie di, potremmo chiamarla una specie di riunione un pochettino privata, perché sa com'è nelle fiere. Ci sono sempre tantissime persone, non si riesce a discutere, non si riesce a parlare in genere, è semplicemente uno che viene lì, qualcuno che viene lì, chiede la foto e poi se ne va. Avremo la possibilità di fare un incontro un pochettino più ravvicinato e si terrà in una sala del cinema. Siccome le sale del cinema comunque hanno un costo, appunto bisogna pagare e trovate tutti i link in descrizione, quindi se vi interessa qualcosa in più, ecco, lì potete fare tutto. Detto questo ragazzi, vi ricordo il 6 e il 7 a Foggia, che per chi non lo sapesse sta tipo sotto 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 l'Italia, e 6 e 7 maggio, ragazzi, se venite fatemelo sapere magari con un commento, perché appunto sono interessato più o meno a sapere quante persone vengono. L'anno scorso ci siamo già stati e ci siamo veramente divertiti molto, perché è stata una cosa abbastanza figa. Detto questo, spero di vedervi e quindi ciao a tutti!